Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Secondo alcune indiscrezioni Francesco Totti avrebbe avuto una storia con una ballerina di amici Ecco di chi si tratta.L' argomento dell'estate, oltre la crisi di governo è certamente la separazione di Ilari Blasi e Francesco Totti dopo 20 anni di vita assieme, 3 di fidanzamento e 17 di matrimonio Francesco Totti, ecco la donna con cui è stato insieme.L' annuncio sulla fine della loro storia è arrivato lo scorso 11 luglio tramite due comunicati distinti e mentre l'ex calciatore è rimasto a Roma senza rilasciare nessuna intervista, Ilari è volata a Zanzibar in compagnia dei suoi tre figli e di sua sorella Silvia Non ci sono notizie riguardo la motivazione che ha portato una delle coppie più amate di sempre alla decisione di separarsi, dato che quando una voce di corridoio, qualche mese fa aveva parlato di una crisi tra di due, entrambi avevano smentito la notizia Adesso invece, secondo alcune fonti, sembrerebbe che Totti sia legato a Noemi Bocchi e che sia stato paparazzato nel Palazzo della Donna Alex Nuccelletti, amico storico del calciatore, ha affermato che quel che si dice potrebbe non essere vero, dato che sui giornali si vede solo la foto di un palazzo e non chi ci sia all'interno Inoltre, l'uomo ha dichiarato che secondo lui, tra Ilari e Totti non c'è stato nessun terzo elemento che ha fatto prendere loro questa decisione Queste parole sono nati dopo che alcune indiscrezioni vorrebbero la conduttrice innamorata pazza di un giovane personaggio del mondo dello spettacolo Tra gli altri che sono intervenuti sulla vicenda ci sono Lori del Santo, che ha dichiarato che dopo tanti anni assieme può accadere di aver voglia di qualcos'altro e che quindi sono cose che accadono E ancora Vladimir Luxuria che in un'intervista ha rivelato che durante l'Isola dei Famosi, la Blasi nonostante stesse vivendo la separazione, si è mostrata sempre sorridente e giovale senza far trasparire nulla La ballerina di Amici che ha fatto perdere la testa al calciatore Nel caso è stato coinvolto anche Alvin come sospettato di aver fatto breccia nel cuore di Ilari ma lo stesso ha smentito il tutto con uno stato di Instagram dove dichiara che in molti stanno speculando sulla storia, così come tempo fa ha analogamente detto anche la sorella minore della conduttrice, Melori Un'ultima indiscrezione, però, vorrebbe Totti coinvolto in una storia d'amore con una ballerina, che ha preso parte ad Amici Stiamo parlando di Rossella Brescia, ex docente di danza classica all'interno del programma e ballerina professionista, adesso impegnata radiofonicamente Sembrerebbe che tra la ballerina e il calciatore, ci sia stata una storia d'amore avvenuta prima della storia con Ilari Blasi nel periodo in cui lui era fidanzato con Maria Mazza Al momento però si tratta solo di un chiacchiericcio nato da alcuni siti web e non c'è stata nessuna conferma né da parte del calciatore che della Brescia Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video